Quindi è bene prepararsi in anticipo per quello. Adesso lasciate stare, ok, fate la settimana di ferie ad agosto, però dovete pensare a luglio-agosto cosa fare a settembre. Non potete nel momento in cui chiudono tutto, magari, non lo so, a settembre-ottobre, pensare di mettere su un e-commerce, pensare di mettere su una generazione di contatti online dall'oggi al domani. Primo perché non avete le agenzie che fanno questa cosa, perché no, perché vi fanno aspettare, comunque i tempi sono di settimane, se non mesi. Settimane quando ti va bene sono settimane, quindi dovete pensare in anticipo, se volete fare delle modifiche al vostro business online dovete pensarci in anticipo. Quindi questo è il periodo ideale perché la maggior parte della gente adesso non ci sta pensando, non sta facendo niente, quindi magari hanno più tempo, a parte il fatto che poi chiudono, non si sa proprio perché, ma che, ricordiamo, il nostro detto è, le persone devono andare in ferie e le aziende no. Ok? Detto questo, dovete già pensare a delle azioni, quindi magari diamo anche qualche suggerimento. Anche perché appunto, sempre riprendendo quello che è stato, possiamo, guardando quello che è stato, si può vedere quello che potrebbe essere, no? Si possono prendere alcuni interessanti. Le attività che, tipo locali come i ristoranti, ma anche macellerie, c'è la macelleria vicino a casa vostra in Italia, quindi le attività che sono andate comunque, che hanno avuto un calo minore durante il lockdown, sono quelle che già erano pronte, che già erano digitalizzate. La macelleria vicino a casa vostra in Italia consegnava durante il lockdown, ma perché aveva già un sito ben fatto e pronto, già consegnava prima del lockdown, già aveva un sito web dal quale si poteva ordinare e consegnavano a domicilio. Quindi hanno avuto un boom durante il lockdown, ma perché erano già pronti. Se il lockdown è iniziato al 10 marzo, se l'11 marzo andavano e chiedevano all'agenzia di creare il sito web per ordinare, forse, forse sarebbero stati pronti per settembre di quest'anno. Sì, ma... Cioè, quindi bisogna muoversi prima, quindi questo è anche un po' il consiglio di questa live. Magari prima c'erano...